Il nodo ferroviario a Bari, la trasformazione in metropolitana di superficie della rete delle ferrovie del sud-est a Lecce. Due progetti ambiziosi sui quali la Regione, insieme agli altri enti territoriali, hanno puntato molto negli ultimi anni. Due progetti però con destini molto diversi. Mentre per il nodo ferroviario di Bari, un'opera da un miliardo di euro, un passaggio epocale, come l'ha definita il governatore Vendola, ci sono i fondi e un progetto preliminare definitivo avanzato, un destino ben diverso è quello della metropolitana di superficie nel Salento. È il 25 marzo del 2006, quando a Lecce viene presentato il protocollo d'intesa tra la Regione, la provincia e le ferrovie del sud-est. Stiamo lavorando, dice Vendola, in quell'occasione per rapportare la Puglia verso il futuro e farla diventare il cuore pulsante del Mediterraneo. Alla provincia di Lecce viene dato l'incarico per la realizzazione di uno studio di fattibilità dell'opera. Noi ci siamo posti il problema di utilizzare al meglio un bene esistente, la ferrovia. Per cui lì la scelta, diciamo, si poneva in modo netto. O la si dismetteva del tutto e sarebbe stato un delitto, si poneva il problema di valorizzarla. In modo anche da collegarci poi verso l'esterno. Quindi il collegamento con l'aeroporto di Brindisi, il collegamento con Taranto. Questi sono stati i punti fondamentali. Lo studio di fattibilità costato 100.000 euro viene messo a punto nel 2007. Prevede degli interventi per oltre 206 milioni di euro. Si va dalla realizzazione di nuove tratte ferroviarie alla soppressione di 70 passaggi a livello. Dall'adeguamento delle stazioni di interscambio all'ammodernamento della rete. Ma che fine ha fatto il progetto? Il progetto si è fermato perché la regione non ha messo i fondi, non ha messo le risorse. Le risorse poi si è viste che sono andate a finire tutte a Bari, quindi sul nodo ferroviario di Bari. A Bari i fondi, a Lecce i progetti o peggio ancora gli slogan o il fumo negli occhi potrebbe semplificare qualcuno. Mentre su un aspetto l'ex assessore Merico e l'assessore attuale Ciccarese sembrano concordare. Lei ha detto che è improprio parlare di metropolitana di superficie. Allora nel 2006 perché avete parlato di metropolitana di superficie? Ma noi non abbiamo mai parlato di metropolitana di superficie. Abbiamo ereditato questa dichiarazione di vendola? Sì, noi abbiamo ereditato questa dizione. Io quando parlo e parlo di metropolitana di superficie, io ma credo qualunque cittadino salentino immaginano doppi binari, immaginano una rete elettrificata, immaginano treni nuovi, immaginano treni con una certa frequenza e con una certa velocità. Io non vedo sinceramente nulla di tutto questo.